Uscito lo scorso 21 ottobre su Columbia e ISO Records, Lazarus, nella copia che esaminiamo, è il triplo vinile a 180 grammi del musical scritto da David Bowie insieme a Enda Walsh e contiene la selezione di brani scritti da Bowie, interpretati dal cast del lavoro teatrale e incisi in studio l'11 gennaio del 2016. La confezione include un booklet di grandi dimensioni, con alcune fotografie dell'allestimento, e una breve storia delle sessioni di registrazione e tutti i crediti. Partiamo dal terzo vinile, quello che contiene una facciata F non incisa e una facciata E con i tre inediti di David Bowie incisi durante le session di Black Star. Gli altri due vinili, il numero 1 e il numero 2, contengono la registrazione delle 19 canzoni scritte da David Bowie e scelte per Lazarus, ovvero l'adattamento liberamente ispirato all'uomo che cade sulla Terra, il film di Nicholas Roegg che il nostro aveva interpretato nel 1976 e che a sua volta era tratto dal romanzo di fantascienza di Walter Tavis. La confezione è un bel triplo gatefold apribile, come potete vedere, con un cartone decisamente solido e spesso per contenere vinili a 180 grammi. Il costo sullo shop ufficiale di David Bowie.com nella versione britannica è al momento di 54 euro e 99 centesimi contro le 60 euro e 99 centesimi della versione limitata che differisce dall'originale solo per il terzo vinile, quello con gli inediti di Bowie, che è colorato di bianco. Mentre la versione limitata è acquistabile solo sul sito Bowie.com, per quella normale consigliamo Amazon, considerato che il costo del triplo vinile è al momento di 26 euro e 91 centesimi.